Perché Opicina per il Trang ha qualcosa di particolare. Opicina è legata sul Trang, è legata dal lato effettivo e dal lato commerciale, non solo a questi commercianti che sono 70 firme e non ci sono tutti, ma anche la gente stessa è legata ed è molto preoccupata per il futuro sia del Trang, naturalmente è legato a Trieste, è legato anche a Opicina dal lato commerciale effettivo. La lettera con le sottoscrizioni raccolte in due giorni fra i commercianti di Opicina è stata inviata al sindaco di piazza, al presidente di Trieste Trasporti Luccarini e alla presidente della seconda circoscrizione Luisa Marco. A preoccupare l'associazione per la difesa di Opicina che si è fatta promotrice dell'iniziativa, l'incertezza sui tempi dell'effettivo ripristino del servizio, fermo dallo scorso agosto dopo un incidente che ha coinvolto due vetture e che non dovrebbe circolare prima della tarda primavera. Ma anche un dato non indifferente, il legame sempre più forte fra l'immagine turistica della città e appunto il tram, la cui assenza forzata rischia di scontentare fortemente i turisti e per altre ragioni appunto i commercianti che lamentano già perdite piuttosto considerevoli. Si calcola quasi il 30%, 30% specialmente nelle grandi manifestazioni come la Barcolana o per esempio altre manifestazioni importanti diciamo nella vita ma vengono da Trieste e da tutto il mondo a vedere il tram di Opicina. Quindi lamentano un 30% in meno anche i ristoranti, la gente del tram, specialmente dei turisti che vengono a vedere appositamente questo mezzo.